Stiamo partendo con un nuovo progetto innovativo, Accademia Megamark, è il nome del progetto che mette in aula 15 ragazzi sotto i 25 anni che formeremo nell'ambito del lavoro nei reparti freschi partendo da un'alternanza di aula e di stage all'interno dei nostri supermercati. La mia presenza qui oggi è la presenza dell'azienda, raccontare quello che stiamo facendo, il significato di questo progetto e dove dobbiamo arrivare con i ragazzi. Gli obiettivi da centrale? Gli obiettivi? Innanzitutto a questi ragazzi faranno un percorso piuttosto lungo perché si tratta di un anno di studio e di impegno. Come dicevo studieranno in aula ma faranno anche pratica all'interno dei nostri supermercati fino a che si sottoporranno anche a un esame finale che porterà sicuramente a una loro abilitazione, a un conseguimento di un titolo di studio equiparato a un diploma di secondo livello. Poi l'obiettivo è quello di individuare queste persone che potranno avere un'opportunità di lavoro all'interno dei nostri supermercati.